No, per noi è stata bella, certo ci è mancato prima il colpo del KO perché arrivavamo fin sotto la tre quarti e non riuscivamo a trovare il varco giusto. La Juventus ha fatto una partita prettamente difensiva e poi cercava di ripartire in contropiede, però noi siamo stati molto diligenti, molto bravi a non dargli mai il fianco a queste ripartenze perché sapevamo che avrebbero cercato questa via. Per cui noi abbiamo fatto una buona partita sotto l'aspetto proprio del controllo del gioco, delle situazioni, il nostro portiere non ha fatto nessuna parata e la partita della svolta è stato il gol di Vucinic, l'aspettavo nel primo tempo dove arrivavamo, arrivavamo ma non riuscivamo appunto a trovare la giocata giusta, ci siamo andati vicino con i calci d'angolo e poi insomma credo che il risultato sia meritato. Mi sembra che anche nella partita di campionato c'era stato il nostro solito gioco e la Juventus invece era stata più ficcante con i contropiedi, per cui noi avevamo dominato il gioco ma loro hanno avuto più occasioni di noi soprattutto nel primo tempo. Poi dopo il gol loro noi abbiamo trovato il gol del pareggio e poi la partita è stata sempre in mano nostra anche all'andata. Ecco diciamo che non c'è stata le loro incursioni sulle fasce, non ci sono stati quei cross tagliati che nella prima partita ci hanno creato problemi. Ma io non cerco né rivincite piccole, grandi, io alleno la Roma, io sono stato qui due anni, sono stati due anni splendidi e adesso ho avuto la fortuna di allenare la mia squadra del cuore, per cui io credo che più felice di me come allenatore non ci sia nessuno. Poi quando vinco ancora di più, ma a prescindere dall'avversario, era una partita secca, siamo venuti qui a Torino senza i nostri tifosi, gli avevamo promesso una gara gagliarda proprio per dimostrare che siamo tutt'uno noi e i tifosi, ci siamo riusciti e siamo molto contenti. Sì ma non è solo stasera dall'inizio del campionato che si parla di questa vendita della società, per cui il discorso è stato fatto a monte, appunto avevamo soltanto due vie, o andare dietro a tutte le voci e essere distratti e fare un campionato pessimo e ci avremmo rimesso noi, o pensare soltanto agli allenamenti, alla serietà, alla determinazione che si deve mettere in ogni partita, in ogni confronto. Per cui i ragazzi sono stati molto intelligenti, mi stanno seguendo e sono contento del lavoro che stanno svolgendo e che il lavoro poi gli dà i frutti che meritano.